Gli architetti dell'Aquila mandano un ultimatum all'amministrazione cittadina e in generale a tutti gli attori politici che hanno dimenticato il futuro dell'Aquila e delle sue frazioni. La ricostruzione resta divisa in due, da un lato quella privata che pur tra mille difficoltà procede e quella pubblica quasi del tutto ferma. E la politica non ancora concretamente preso in mano il destino della città, vuoi per i tempi di assestamento dopo il passaggio dalla vecchia alla nuova amministrazione, ormai avvenuto due anni fa, vuoi per la continua campagna elettorale. Torneremo in piazza a protestare, dicono gli architetti dell'Aquila, che chiamano a raccolta tutti gli ordini professionali per far fronte comune verso una politica incapace, dicono, di battere i pugni a Roma e in Europa. Basta con gli spot, l'Aquila è una città zoppa, dice il presidente dell'ordine provinciale degli architetti, Edoardo Compagnone. I politici ritornino ad assumere il loro ruolo agli occhi del governo nazionale e propone una sorta di sblocca cantieri per l'Aquila, un documento che possa una volta per tutte snellire alla ricostruzione pubblica che impantanata nella burocrazia impedisce la ripresa della vita sociale. Noi proponiamo uno sblocca cantieri fatto ad hoc per la città dell'Aquila, però questo sblocca cantieri deve essere scritto con la collaborazione di tutti gli attori che partecipano alla ricostruzione dell'Aquila, non semplicemente da burocrati di Roma. Questo facciamo appello a tutte le forze politiche a tutti i livelli affinché si crei un ponte tra noi e il politico di Roma. Noi abbiamo proposto, come ho detto, equiparare l'itere buroliatico per quanto riguarda la ricostruzione pubblica a quello delle scuole che è stato fatto ad hoc per le scuole, invece purtroppo ce l'hanno bocciato, quella è una delle cose più importanti. Ma c'è anche un'altra anomalia da affrontare con azioni legislative ad hoc, ribadisce Compagnone, ed è quella delle imprese con il vizio di ricorrere al TAR. Un esempio per tutti è la scuola di Amicis, avvolta in una nuvola nera di tubi innocenti, il cui cantiere avviato alcune settimane fa a dieci anni dal terremoto, è stato di nuovo fermato dall'ennesimo ricorso al TAR. Bisognerebbe studiare il modo di evitare queste cose, perché delle volte delle imprese fanno ricorso solo per farlo, dicono ci provo, però non sanno che bloccano un cantiere per anni. Grazie a tutti.